mamma mi hanno bocciato io non so poco da risponderle le figlie di benedetta sono alle prese con gli esami di maturità e universitari ecco come sta andando buongiorno rieccomi nella mia cucina ho bloccato prima il video perché ha una faccia detto mettiamo un filtro invece ce l'avevo già messo mi sono appena svegliata va bene comunque la cucina perché vado a lavorare un ritardi quindi approfitto adesso mi alleno e poi così inizio con lo sprint la fatica a svegliarsi prima per allenarsi veramente sono molto fiera di me c'è ancora lo devo fare però già mi sento fiera volevo così ragguagliarvi degli esami di ieri ma Eleonora ha fatto il primo scritto e ha fatto quello di whatsapp e Matilde ha dato questo esame molto importante e ha preso 30 sono molto contenta mi ha fatto uno scherzo mi ha detto mamma mi hanno bocciato io non sapevo cosa risponderle e lei ha preso 30 molto fiera delle mie bambine e finisco questo caffè e poi parte la mia giornata se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti al canale ciao 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 ciao